ciao a tutti gli amici mi trovo in montagna siamo all'incirca mille metri sopra la del mare e qui sotto c'è la nuova casa ad alte prestazioni in valle di paglia che abbiamo realizzato qui in trentino la casa è composta da due camere da letto un soggiorno una cucina e un bagno e un soppalco mentre nella parte qui dietro abbiamo la lavanderia con un auto rimessa la casa è all'incirca 120 metri quadrati e su quel lato la che è il lato frontale alle montagne lato sud abbiamo tre grandi finestre dove affacciano una camera da letto la zona giorno e la cucina in modo che dall'interno si possa ammirare questo bellissimo panorama che abbiamo di fronte quello la che si vede è l'altopiano di asiaco che dire qui si respira una buonissima aria non ci non c'è nessun sistema di ventilazione meccanica all'interno il riscaldamento sarà un scaldamento a legna con un riscaldamento elettrico incassato all'interno dell'intonaco a raggi infrarossi l'energia sarà presa dal dei pannelli fotovoltaici che sono sopra questa falda e l'altra falda in modo da soddisfare il bisogno energetico della casa questo tra qualche mese sarà pronta ti ricordo che se vuoi vedere altri progetti di case ad altre prestazioni come questa in paglia ti invito ad andare a vedere sul mio sito edifici di paglitalia.com ciao da nicola preti e ci vediamo nel prossimo video